Ciao a tutti, bentornati con qualcuno, io sono Cliff, oggi nuovo video, oggi vi parlo di un film che attendeva da un sacco veramente sia per il tipo di film in sé e anche per il film che c'era dietro questo prodotto, appunto John Woo, oggi vi parlo di The Killer Remake del film di John Woo dell'89 che era un capolavolo di film, adesso ma ne farlo meglio del dettaglio appunto, sul 23 agosto 2024 è uscito su Pitchcock, piattaforma streaming americana il remake scritto da Brian Elgin insieme ad altri due, Brian Elgin perché ve lo nomino, perché è il regista di Lea Noir comunque non è un tizio valonghi per così dire, ma è anche il regista di un film abbastanza mediocrino di cui penso che non avervi mai parlato, però Fanny's Kind è un abbastanza pessimo quello comunque, prima di parlare di Guillermo e se parli un attimo del regista John Woo John Woo è uno dei registi più importanti, si vede proprio del cinema di Hong Kong e poi quando ebbe la sua parentesi americana è un regista che su me è proprio redefinito proprio lo stile dell'action art boiled quindi esagerato in un certo senso nell'inquadrare alcune scene proprio nello stile di regia ma anche proprio nell'impostazione che si dava alle scene disperatorie, comunque le scene action è una cosa che a me è piaciuta dei suoi film, appunto è che aveva questo stile molto se ne è pazzo, in certo senso, molto esagerato, ma era un stile che funzionava perché poi aveva dietro una storia che funzionava alla perfezione cioè The Killer era una delle storie più commoventi, divertenti, importanti anche a livello politico perché comunque era un film che era una bella critica a politica dell'epoca quella di Hong Kong soprattutto e però rifletteva comunque anche sulla corruzione dei politici tutti stessi era un film che comunque, quello che poteva sembrare all'inizio un film cacerone, eccetera in realtà era un film molto più profondo infatti forse è stato per un grosso periodo uno dei miei preferiti in assoluto anzi tuttora è uno tra i miei preferiti Google l'avevamo visto di recente, ormai quasi un anno fa, a novembre, sì novembre con il suo Silent Night che per me è stato bellissimo un action girato da Dio che nonostante magari qualche scivolone qua e là era veramente un ottimo action da tutti massacrato, da tutti odiato perché tu nasce una cerchia distretta che capisce che è veramente un gran film e che va riscoperto in un certo senso allora appunto questo remake di The Killer io posso dire che ero molto incuriosito anche se avevo una paura ovvero che sarebbe stato un remake fatto in quadro per inquadratura cioè se fosse stato un remake però con attori nuovi, attori comunque internazionali in ambientazioni diverse, eccetera però se sarebbe stato presente lo stesso film e invece no la cosa che mi è piaciuta molto di questo The Killer è che riprende fedelmente la storia originale la storia comunque di base del film del 89 però dando una propria impronta un proprio sviluppo con un'introduzione di nuovi personaggi proprio anche una accreditazione stessa dei personaggi che non mi sarei aspettato io sono rimasto totalmente contento ovvio, stiamo attenti non stiamo parlando di un grandissimo film o di un capolavoro però stiamo parlando di un film veramente buono veramente valido appunto nel caso troviamo attori più che altro internazionali europei come può essere in Atelier Emanuele che comunque comunque si è fatta riconoscere negli anni per la serie di Game of Thrones la vedremo all'ottobre con Megalopolis Frenzy 4 Coppola ma se non sbaglio ha fatto anche qualche fase di Infurius cioè Omar sì che è qua veramente gigantesco in generale la sua migliore però vattoriale che dopo le merde che era Lupin finalmente si è un po' ripreso nel caso c'è anche Sam Wolverton che wow fa un bel film finalmente fa un film che funziona e che soprattutto ha un ruolo che riesce a far funzionare senza che sia alto due metri e sia praticamente un puffo appunto la trama è praticamente la stessa c'è questa Killer Z che viene ripetita la Queen of the Dead l'ho visto in inglese quindi non so che traduzione gli avevano dato che appunto viene incaricata dal suo capo Finn appunto Sam Wolverton di uccidere questi tizi che da quanto ci viene detto dal personaggio di Sam Wolverton non sono brave persone quindi vanno uccise tutte appunto Z va a compiere il suo dovere però tra queste persone c'è una cantante appunto questa Jennifer o Jen come voleva essere chiamata all'interno del film che dopo lo scontro praticamente cade cade per di qua cade comunque all'indietro e appunto perde la vista ha perso la vista soltanto momentaneamente o non potrà mai più vedere appunto funziona benissimo nella caratterizzazione dei personaggi che è una caratterizzazione diversa appunto anche abbiamo sì perso in un certo senso diciamo in questo modo la storia d'amore tra il killer e la cantante però abbiamo ottenuto abbiamo ricevuto un abbiamo ricevuto appunto un rapporto tra appunto la killer Z e questa cantante Jen che su me funziona cioè è ben scritto le due hanno una buona alchimia l'attrice che è è pure molto brava Natalia Emanuele è stata veramente bravissima nel ruolo è gioculla direttamente molto molto bene Omar Sy stesso come dicevo prima per me questa è la signora interpretazione generale sa quando deve essere cacciarone sa quando deve essere un più serio e quando riesce anche a saper bilanciare tutte queste cose il suo personaggio è molto ben scritto anche se vabbè ha un nome un po' strano perché alcuni lo chiamano sei altri sì perché lui si chiama Omar Sy quindi non so se era un gioco di parole che ha fatto lo sceneggiatore del film in questione però vabbè per il resto è un film che sì è televisivo cioè è fatto per lo streaming e un po' si vede magari dalla fotografia che a me è piaciuta attenzione però si vede che è molto standard molto saturate in alcuni punti però su me non si nota tanto e in generale anche grazie alla regia bellissima gente bellissima in John Woo ci passo soltanto sopra che questo è un film girato benissimo è un ritorno all'hardboiled comunque questi film è molto esagerati volutamente esagerati nelle scene action con proprio con delle sequenze che sono memorabili perché John Woo è proprio un maestro nel saper filmare queste cose è molto soddientico anzi io sto leggendo adesso molte critiche su questo film che io non riesco innamente a capire potevo capire magari l'odio verso Silent Night che aveva questo approccio che non c'erano niente dialoghi o comunque a parte qualcuno magari tipo un cazzo qua e là non c'erano niente dialoghi però questo è veramente un buonissimo remake che non vuole essere di più del film originale ma non vuole neanche essere la copia sputata rimangiata anzi vuole essere qualcosa vuole essere una cosa sostante in un certo senso l'ambientazione parigina funziona pure molto bene il montaggio molto buono gioca anche con questi split screen che mi ha aiutato un po' alla De Palma anche se siamo un po' lontani ovviamente perché comunque lo stile di Dio di De Palma sono totalmente diverso però sono entrambi thriller action ovviamente magnifici magari farò più in là magari un video in cui li faccio un confronto e che altro vi posso dire questo film mi ha divertito ha una storia che funziona sono due ore e cinque è che togliendo magari i titoli di coda sono soltanto due ore che funzionano alla perfezione scritte benissimo non ti annoiano c'è la giusta tensione i giusti colpi di scena che sono tipo wow ma cosa mi stai dicendo però funzionano quindi niente io non ho nient'altro a dirvi se non guardatelo un po' mi dispiace non averlo potuto vedere in sala però questo è stato il futuro di questo film spero che magari i prossimi film di John W sperando che questo possa ricevere più in là un'accoglienza più positiva possa fare il suo prossimo film per la sala perché purtroppo Silent Night ha avuto una disposizione veramente pessima infatti non l'ho potuto vedere al cinema quindi niente questo è tutto lo dire circa su The Killer noi ci vediamo in prossimi video prossime collaborazioni sul canale telegram sul mio account letterbox e così via e quanto altro vi posso dire The Killer è un film validissimo veramente un remake che vale la pena vedere che non vuole totalmente oscurare il film originale che anzi vuole essere a momenti proprio un film nuovo perciò se comunque la storia è quella un cast validissimo è una regia stupenda è una scrittura che secondo me funziona veramente molto molto bene quindi niente noi ci vediamo in prossimi video ciao ciao